No, no, io vado a vivere. No, ma Danilo mi canti, non sarà un'avventura. No, no, pugni chiusi. No, pugni chiusi, ma una più recente. Pugni chiusi perché la dedico a Elio che ha perso. Ma guarda le scarpe di Coppi. Le scarpe di Coppi. Di Coppi e Bartali. Dai, per contasino. Sentirei il tuo miaggio con un micro. No, oppure sembrano quelle di mia azza. Un gelato. Un gelato, non c'aveva un gelato. Non ce l'abbiamo, fatta così. Non ce l'abbiamo. Ascolta, vedi anche chi ti muove. Dai, beh, per favore. Aspetta, arriva il gelato. Aspetta che è un gelato. Che la trasmissione la guarda anche... Scusa, questa trasmissione la guarda molto volentieri sia il mio commercialista che il mio avvocato. Che non mi farebbero più entrare. Quindi, prego. Vabbè, dopo quello che hai fatto tu prima... Chiudiamo. No, io c'era un motivo. Te veramente sei... No, no, c'è un motivo anche per me. Dai, vabbè, dai. Mi ha acceso? Stendiamo un veloziettoso. Aspetta, aspetta. Fai tornare il notaio. Datemi il via. 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 Vai. Pugni chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Io direi di andare in pubblicità perché è andata via anche Alessandra Magni. Pubblicità, sono andati via tutti. Tutti, pubblicità. Pugni chiusi.